Buonanotte ragazzi! Benvenuti ad una nuova puntata di Serata Nerd, il podcast, vorrei trovargli un aggettivo, però non lo so, free, non lo so, libero, free range nerd, esatto, esattamente, mi sembra devolvo, esatto, oggi abbiamo di nuovo come ospite Bona, che ormai ospite non è più ragazzi, non l'hai mai stato, sono un finto ospite, sei un intruso, un intruso però che ti vogliamo, Se è meglio o peggio rispetto a ospite, è sicuramente peggio, un ospite è invitato, un ospite eccezionale Grazie ragazzi, mi dà davvero, oggi ci sono tra l'altro anche dei ragazzi che giocano qua Kislev, quindi se sentite un po' di brusio è perché si stanno divertendo, beati loro, anche noi ci divertiamo a fare queste cose qua, no buona, questo è duro lavoro, sì sì chiaramente, fatica in effetti, quindi per dimenticare questa serata faticosa, come sempre iniziamo con una bevanda nerd, esatto, Questa volta la bevanda l'ha fornita a Andre, bravissimo, e arriva direttamente da un luogo recondito chiamato il supermercato Il supermercato, ma da dove arrivavamo? Però è una cosa, una chicca È una cosa molto particolare, allora, non avete voto di vederla sicuramente, però la potrete cercare su internet o su qualunque altro metodo di ricerca, tipo un supermercato, ed è una birra piemontese, locale, che si chiama Granda, locale perché come la nostra provincia, la provincia di Cuneo si chiama provincia Granda, bla 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 bla, ed è bella perché ha delle art sopra, super, come erano buona Ricordano molto Cyberpunk, perché c'è appunto questo mix di tecnologia, ma non estremamente futuristica, particolare, se avete presente il videogioco, o i giochi di ruolo, Cyberpunk and Company, le ricordano quindi questa etichetta Tu hai mai sentito, anzi avete mai sentito una canzone che si chiama Sad Robot dei Pornophonic? Non so perché neanche esistesse quel gruppo Beh, è una canzone molto carina, un po' electro strana, di un gruppo del nord Europa che si chiama Pornophonic E il protagonista è un robot che assomiglia un po' a questo robot qua Ah, perfetto Per la vostra cultura, ragazzi Quindi, allora, assaggiamo la birra Allora, quale apriamo prima? La IPA? O la Amber Lager? Buona sei tu l'esperto di birra, è quattro noi Eh, la IPA andrei per primo Andiamo Buona sceglia A proposito di ASMR, che l'altra volta Davide mi ha detto di aver apprezzato molto Porca vacca Questo fa parte dell'ASMR Sì, sì, sì Bene Beh, facciamo così, va buona, tu versala, io parlo di altro Mentre buona ci persa la birra, io volevo solo aggiungere Buona tirata pure un pazzolettino come i vecchietti Ringrazio, perché no, finiva preggio Ecco perché un interno Non mi fa giovinotto Comunque le attine sono in rilievo, eh Sono molto appaganti da accarezzare Sono molto piacevoli al tatto Vai Mauri, introduci il nuovo argomento Allora, l'argomento di questa sera, di cui parleremo dopo che avremo anche presentato il libro E detto un paio di informazioni Sarà il background La lore, l'ambientazione, come vogliamo chiamarla Indipendentemente, tutti sinonimi dello stesso termine Nei giochi Il flavor, esatto E quanto deve essere importante Quanto risulta esserlo E quanto vorremmo che lo fosse All'interno di giochi, videogiochi Libri, film Qualunque cosa è NERV Nel frattempo Salute ragazzi Salute Assaggiamola Questa è la IPA Questa è la IPA Questa è la IPA Serve da fare il brindisi vicino al microco Sì, esatto Vai, vai Alla tua, Davide Le IPA sono fantastiche È buono Very good, very good Molto chiaro Secondo me È quasi verdogno Quasi verdogno Forse è bicchierre sporco O è la luce È color senape È un color particolare Tra l'altro Se notate Delle luci differenti Perché appunto Siamo lì Giusto Bravo, bravo Introduci Che segue A tal proposito Non ci siamo dimenticati Di fare dei Battle Report Che è come è nato Il nostro canale Infatti Il prossimo video Sarà un Battle Report Esatto Ve lo promettiamo ormai Siamo indirittura Cioè abbiamo sistemato Il nuovo Kislev Fra due giorni filmiamo Esatto E poi dopo Sabato prossimo Il set è quasi pronto Praticamente pronto Siamo pronti Le armate ci sono I giocatori ci sono Esatto Manca una luce Per avere già Un nuovo livello Diciamo Noi lo chiamiamo livello Poi magari Farà schifo Non so Però ci auguriamo di no Abbiamo fatto Delle grandi migliorie A parer nostro E sarà il primo step Di alcuni Che abbiamo Intenzione di fare Alcuni che vedrete Poi dopo Nei video Che inizieranno Col prossimo anno Non credo Perché nelle vacanze di Natale Farmo sperimentazioni Cercheremo di migliorare Facciamo test vari Per cui Scusateci Se siamo stati un po' Assenti con il Battle Report Ma era tutto Per il vostro bene Altra cosa Che volevo dire Ah sì Non me la ricordavo più Su consiglio di Luca Q Che è venuto a trovarci Pensavamo di tentare Di fare questo Questo format Le prossime volte In live Quindi lo stesso identico video Che state vedendo adesso Però in diretta Su YouTube Con qualche giorno di anticipo Con un annuncio In qualche giorno di anticipo Per cui troverete La comunicazione Su YouTube E potrete interagire Direttamente con noi Specialmente il primo Sarà un test totale Sì Non l'abbiamo mai fatto Non l'abbiamo mai fatto Una live Non sarà una cosa Un appuntamento fisso Poi magari potremmo diventarlo Ma ora come ora sarà Una piacevole alternativa Poi sarà caricato Come poter Però sarà Un'alternativa Settimanale Ogni tanto Allora Idealmente sarà Un giovedì Ogni tre settimane Esatto Questa è l'idea Che ci siamo fatti Noi lo registriamo Di giovedì sera Quindi giovedì più o meno Verso le 21 e 30 Verso le 21 21 e 30 Si inizia E staremo Una retta Una retta e mezza Preparate il vostro drink Esatto Beviamo tutti insieme Dopopasto Che a 9 e mezza Uno si è seduto Dopo cena Dicestivo Tac tac E poi si va a dormire Fantastico Bene Esatto Bene Ultima Anzi Ultime novità Innanzitutto Presentiamo il libro della serata Questo è uno dei tuoi libri preferiti Di lascio parlare Forse il mio libro preferito in assoluto Ve l'avevo detto La scorsa volta Che avrei portato Uno dei miei libri preferiti Questo libro So che Ambro l'ha letto Perché l'ha commentato In un video Si chiama Il quinto giorno Di Frank Schatzin Frank Schatzin È uno scrittore tedesco Che sicuramente mette molta passione Nei suoi libri Io ne ho letti Quattro Suoi mi sembra Per scrivere questo libro Ha preso una laurea Di quinquennale In biologia marina Giusto Per capirci Infatti ci sono Alla sua Sì Infatti ha scritto Subito dopo questo Un trattato di biologia marina Che si chiama Il mare Qualcosa Il mondo d'acqua Si chiama La cui copertina è uguale Identica a questa Ma bianca Soltanto per Diciamo Mettere a frutto Tutte le competenze Che aveva acquisito Laureandosi Oltre a quelle Che ha inserito nel libro Che come Andre Potessimo andare Perché l'ha letto Sono tantissime Sì Allora il libro è bellissimo Sembra davvero un libro Vero Cioè è un libro fantascientifico Alla fine Esatto È fantasciente Però sembra una cosa Talmente possibile E tu la fatti In modo perfetto Che sembra incredibilmente plausibile Sì Tranne quando l'acqua brilla Fa venire un'ansia Quando l'acqua brilla Lì arriva la fantasia Fa venire un'ansia Pazzesca È ben studiato No 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 Buona Questo è un libro Che ti apre la mente Questo lì è un libro Che tu lo finisci Ci sono mille pagine Quindi è un impegnativo Io l'ho letto in una settimana neanche Io l'ho letto due volte E ho ascoltato tre volte l'audiolibro Perché su Odebol c'è anche l'audiolibro È una cosa incredibile Ecco Questo qua è proprio il libro Che io consiglierei a leggere a chiunque Cioè che sia un uomo Donna Vecchio Bambino Vabbè bambino magari Non ce la fa Però appassionato di robe nerd Non appassionato di robe nerd Qualunque sia Biologo A chiunque A chiunque Davvero a chiunque Ma perché dà delle nozioni Di tantissime cose E di un interesse È completo e complesso Sì Però è anche Estremamente scorrevole Sì E alla portata di tutti E ti lascia qualcosa Sono quei libri che poi ci ripensi Sì Che ti rimangono lì Sì Io l'ho letto comunque Beh Era sicuramente prima del covid Sì Penso che Di sapere quasi tutto di quel libro Perché mi ha proprio segnato tantissimo Io l'ho comprato dodici anni fa E E nel frattempo L'hai sentito tre, quattro, cinque volte Nel frattempo L'ho assorbito cinque volte In maniera di Varie ed eventuali E com'è Ogni volta che lo rileggi Ti hai detto Qualcosa di diverso Ogni volta che lo rileggo Dico Porca vacca Che libro Ok È una roba davvero Incredibile È davvero incredibile Questo libro Quindi io vi consiglio Vivamente di Acquistarlo Non so se si trovi Probabilmente lo troverete usato Perché la Thea Se non sbaglio Non lo pubblica più Pazzesco Però Veduti Cioè Milioni e milioni di copie Sì Sì Non è un libro sconosciuto E una cosa che discutevamo Costava 13 euro Un libro di mille pagine 15 anni fa Adesso con 13 euro Non compri neanche un libro da bambini Però No Non mi compri A me costano ancora di più Quei bambini rispetto a quelli per adulti Forse sì Probabilmente sì Quindi dopo avervi dato Qualche informazione Su questo brillantissimo tomo Abbiamo un altro piccolo Progetto da presentarvi Sì E cioè quello di Riccardo Riccardo Bravo Stavo dicendo Alessio No Alassio Allora Riccardo è un ragazzo di Alassio Esatto Che in realtà Come ha un'attività Dove stampa Modelli 3D Modelli di scenici 3D Che scolpisce lui Sì esatto Quindi lui crea proprio i file E poi dopo li stampa Li vende già stampati Quindi non avete una stampante Resi Non avete una stampante 3D Nessun problema Li comprate direttamente Esatto Da lui Sta mettendo su questa Questa attività In cui lui appunto modella Perché di lavoro Già fa il modellatore Lui di interni Proprio di locali Se non erro Di negozi E quindi ha deciso Anche con il suo club di gioco Di fare questo progetto E è venuto a trovarci Ci ha portato qualche pezzo da vedere Molto belli Molto belli Specialmente dei molto originali E vuole sviluppare Tavoli completi Anche per dare delle soluzioni A tutto tondo E ci ha chiesto qualche consiglio Sia su ambientazioni Da implementare Che anche un po' Di dimensioni di scenici Come utilizzarli E quant'altro Io penso che noi principalmente Il gioco quindi Come si fa lo più grosso O meno grosso Esatto Noi siamo A noi piacciono sempre Le robe gigantesche Vi l'ho detto Sì l'ho notato un po' Sì esatto Abbiamo dei complessi Evidentemente Perché avendo tutte torri giganti O delle mani enorme Esatto E quindi tenetelo d'occhio Si chiama Air Games Sì Mettiamo poi il link sotto Sì come abbiamo detto E di Alassio E secondo me uscirà qualcosa Di molto bello Quindi assolutamente Non perdetevelo Ora Libro fatto Libro Sta andando Sì Abbiamo presentato più o meno tutto I nostri progetti Parliamo del tema principale Parliamo del background Abbiamo un tema Abbiamo un tema Si chiama il background Che è anche il titolo Buono di questa serata NERB Dovremmo trovare poi Una bella copertina Non sarà bella come Buona for president Eh vabbè Meno male che buona c'è Però ci proveremo Background Ragazzi Innanzitutto Cosa definisce la parola background In generale La storia che c'è dietro qualcosa Le fondamenta che stanno dietro Qualunque aspetto nerd Secondo me Si potrebbe definire Senza quello Anche un ambito in cui Non influenza troppo la storia Si perde un po' di intensità O diventa piatto e scialbo Anche il gioco In cui c'è bisogno di un minimo di storia Senza un po' si perde Diventa Insipido Sipido Io sono abbastanza d'accordo Penso però che il background Includa sia le fondamenta Come dici giustamente Che l'evoluzione di tutto ciò Che è incluso all'interno Del progetto Qualunque questo sia Gioco Videogioco Libro Film C'è proprio Tutto Forse il background è una parola Appunto che di solito Evidenzia soltanto la parte Che sta dietro Letteralmente Quindi che include Però in realtà Piccolo sfondo Secondo me è anche l'idea Da cui parte tutto Cioè se io dovessi Mai diventare un game designer Eccetera Secondo me è giusto Partire dal background È giusto partire dalle idee Che poi vogliono essere rappresentate Con regole Che poi sia un gioco di carte Che sia un gioco di ruolo Lì il background è ancora più importante Che sia un gioco di miniature Che sia un gioco in scatola Certo Ciò che sta dietro Secondo me deve essere La parte principale e focale Da cui poi si sviluppa il tutto Si Concordo Concordo in toto Poi vabbè Io ho nominato questi ambiti Ci sono ambiti Dove sicuramente Il background La lore Sono più importanti Come diciamo Nei giochi di ruolo Per me sono importantissimi I giochi di ruolo Cioè proprio È la base Senza quello Anche il gioco di ruolo Più semplice Senza una storia dietro Non la puoi ambientare Perché manca proprio E probabilmente anche il gioco di ruolo Più semplice Con una bella storia dietro Diventa il gioco più bello di tutti Specialmente la cosa principale Dei giochi di ruolo È che tu crei il background Cioè tu crei la storia Tu sei il protagonista della storia A differenza di qualunque altro gioco O meglio Di tanti giochi Tendi ad essere il protagonista Specialmente videogiochi Piuttosto che giochi da tavolo Però lì la Come si dice La modelli Io comunque Videogiochi bene o male Uno li può andare Non me ne vogliate Comunque bene o male Nel gioco di ruolo Perché comunque Tu stai interpretando Un ruolo Anche se non è giocato Nel senso Trasposizioni Di D&D E company Nel videogioco Qualunque videogioco Tu hai un ruolo Quindi se andiamo a vedere È proprio anche lì di nuovo Esatto È un ruolo Molto più indirizzato Perché di fatto Il game master È stato il designer Del gioco Però è Mi piace come prende Il piego Questa serata Nel Allora parliamo un po' meglio Di questi giochi di ruolo Secondo voi Che tipo di storie Sono più affascinanti In un gioco di ruolo La storia di un personaggio Che si sviluppa Quindi uno dei giocatori Diventa il protagonista Oppure una storia Epica Gigantesca Che cambia il mondo Oppure la piccola storia Che magari fa la differenza Per Dei personaggi Che magari Non sono neanche giocanti Ma che diventano Non so Parte del gruppo Parte della ciurva Parte della ciurva Parte della nave Un altro bel background Esatto Buona vai Prova a dirla tua Allora io Personalmente apprezzo Il crescendo Del tipo Io anche avrei detto L'evoluzione Tu inizi come Nel gioco di ruolo Come un gruppetto Classico Scapestrato O anche già magari Un eroe formato Che inizia a fare Una serie di cose E nel mentre Ma anche inconsciamente O inconsapevolmente Tutto quello che fa Andrà Ad impattare Nel mondo E poi a un certo punto Sarà bello Quando poi Lo si scopre Che magari Tutto quello che hai fatto Ha avuto un impatto Notevole Diciamo che A noi piace Quando dà un senso Alla vita Ok Praticamente Eh sì Ma è una bella risposta A me piace A me piace proprio Questa cosa Dell'evoluzione Cioè vedere che Si cambia Tanto Durante Tutto il percorso In particolare Un esempio che vorrei fare Sto guardando La seconda stagione Di Critical Role No? Sì Ha fatto anche la serie tv Legend of Vox Machina Valzata su quella Uscirà anche la serie tv Sulla seconda Che si chiama appunto Mighty Nein E vedere come si sono sviluppati Vabbè Loro sono molto bravi Però vedere come si è sviluppata La storia E come si sono sviluppati I personaggi Cioè proprio L'evoluzione Narrativa È davvero incredibile Cioè davvero Molto soddisfacente E sicuramente Anche soddisfacente Sia per il master Che per i giocatori Sì Quindi diciamo che Forse il master Deve tenere Molto in considerazione I vari giocatori E il background dietro I vari giocatori Sì E i giocatori stessi Oltre a che Concedere sulle statistiche Ovviamente Ciò che caratterizza Il personaggio Devono creare una storia Vincente E dare degli spunti Al master Che poi deve riuscire A sviluppare Forse il film più importante È quello della storia Del libro Che si fa Il viro Della avventura Di fare Che ci sia Un dialogo Giocatore E chi intessa la storia Perché se no Rischi che Forse alla fine I giochi di ruolo Sono il classico gioco Dove si è tutti Nella stessa squadra Master Player Tutti Vogliamo creare una storia E giocare Per divertirci Uno con l'altro Alla fine Forse è uno dei giochi Più complessi Tutti Sicuramente Più adulti Più adulti Più adulti Più consapevoli Più maturi Anche Dipende come uno vuole giocarlo Io non mi ho giocato In maniera matura Mi ho giocato anche a livello In psicologia Per aiutare Per fare un po' Non solo fare Aspetta Buona Aspetta Aspetta Vai In psicologia Per aiutare Magari i bambini Che arrivano Delle situazioni Difficili Per farli aprire Cioè il gioco di ruolo È molto utilizzato Anche in ambito Diciamo Tra virgolette Serio Fuori dal nerd Sì Certo Vabbè Non ludico Vabbè Però Alla fine il gioco di ruolo Per me È una cosa Per evadere dalla mia vita E svagarmi Ma proprio La creazione del background È quello È proprio l'evasione totale Ad esempio I background più rinomati Ah grazie I background più rinomati Più famosi Più storici Quello del Signore degli Anelli Quello delle Croniche di Narnia Sono tutti nati In momenti storici In cui chiaramente Chi li ha ideati Voleva totalmente evadere Dalla realtà Completamente Tanto che Ha rispecchiato Tutti gli elementi negativi Della sua realtà In quella che ha creato Di finzione Per cui A parte Tolkien Che gli serviva Un mondo dove Ambientare la lingua Che ha inventato Sì esatto Però chiaramente Lui ha riflesso Esatto Ha riflesso Tutte le problematiche Dell'epoca Vabbè Le Croniche di Narnia È proprio quello Il caso più eclatante Perché gli scappano Letteralmente Da una guerra Si entra in un armadio Via Sì Per cui Eh beh Questa è La triste Felice storia Dei nerd Allora colleghiamolo Tu no Andre Tu devi ancora dire La tua tipologia No no ma io sono Completamente d'accordo Con voi A me piace Quando i personaggi Evolvono Quando i personaggi Nascono A livello 1 E vanno a livello Che ne so Fino a quando va L'avventura Quindi ci diciamo Quando crescono Psicologicamente Non sempre sono riuscito Per il mio demerito A far fare avanti Il vergrano Dei miei personaggi A volte Cerco di farlo Più epico possibile Poi mi accorgo Che perdo qualcosa Perché è così Però poi Poi dopo Quando me ne accorgo Cerco sempre Di aggiustare Un po' il tiro E perdere Un po' Di epicità Secondo me La cosa più bella Che è anche quella Poi più difficile Da accettare E che i propri personaggi Dei difetti Come le persone Eh sì Come le persone Ha un profumo Buonissimo Questa birra Qua Sì questa è L'ambrata Sono più da IPA Ma è lì il gusto Personale No certo Molto interessante E detto questo Fatta questa riflessione Un po' di base Io mi collegherei A quello che stavi dicendo Tu Le croniche di Narnia A questi grandi film A questi grandi classici Che un po' hanno segnato La nostra infanzia La nostra adolescenza Sì totalmente Perché forse Non fosse per il signore Gli anelli Non saremo qua oggi Esatto Una delle domande Che vorrei farvi E qual è Non c'entra forse Tanto con il tema Però Qual è il background Simile a quelli Che abbiamo citato Che a voi È la vostra Prima memoria simile Oppure a un po' Vi ha introdotto In questo mondo E a questo tipo Di ragionamento Non lo so Comunque al fantasticare Al fantasticare Ma vai tu Andre Perché di questo Devo fare Ma io credo Ma tu sei ospite Che sia una cosa Molto più insita Nell'infanzia Nei bambini Il fantasticare Cioè già solo Vabbè io vedo mio figlio Ma già solo lui Inventa tutto I suoi giochi Certo E fa finta Che questo Si sia fatto male Si inventa le storie E secondo me Buoggiardi i bambini Comunque una cosa Che secondo me Abbiamo dentro Dall'inizio E poi Quanto uno la coltiva Quanto uno La tra virgolette Reprime In favore di altre cose Comunque Le mie prime reminiscenze Sono sicuramente Star Wars Che io Che mio padre L'ha fatto vedere Quando ero piccolissimo La direttora Aveva preso Le cassette in America Quindi le avevo viste In inglese Non ho capito niente Perché un po' di sei anni In inglese Non lo parla E poi continuavo a guardarla Perché ero affascinato Da questi Mondi Da Chewbeck Dal maestro Yoda Io questi Me li ricordo E avevo visto Star Wars E poi dopo Sicuramente Quello che mi ha svoltato Si Aveglianelli Ha proprio segnato Io l'ho visto Quando è uscito Il terzo Al cinema Io mi ero cooperato Primo e seconda E avevo visto Il terzo Al cinema Quindi 2003 2003 2004 Può essere Quindi non è che Ero proprio Avevo avuto 11 anni Però da lì Io non l'ho mai smesso Certo Non l'ho mai smesso Poi dopo di La risposta più che valida Direi Buona in questi mondi Allora Nell'ambito Generale Diciamo Io mi sono avvicinato Già Da Pensoli elementari Perché a casa mia C'erano Mio padre È sempre stato appassionato Di Anche Informatico Comunque già Lui aveva una base Per chi è molto Molto vecchio La tua famiglia Un po' nerd Lo era già Si Perché mio padre Giusto per farvi capire Aveva all'epoca Era un crociato Una delle prime versioni Ma non più di tanto Indietro Aveva una delle prime versioni Di D&D In cui Tu non avevi La plancia Ma era tutto Con i suoni Tu avanzavi E sentivi i passi Sentivi il drago Si avvicinava O meno E comunque Già in quell'ambito Lì poi Avevamo preso Uno dei primi Computer Un Commodore L'Amiga Molto molto vecchio Certo E io già Mi sono avvicinato Al mondo Dei videogiochi E molti di quelli Comunque erano anche In chiave fantasy Eh certo Certo Quello era un periodo Super nerd Comunque Estremamente nerd Poi invece In ambito fantasy I miei primi due Momenti In cui mi sono avvicinato Sono quando ho letto La Spade di Shanara Certo Che sta Ho letto prima Quello di Signore Anelli Perché Me l'ho ricordato Tramite un mio zio E L'altro punto è Quando un fratello Si era messo a giocare A D&D A casa E io Vedevo Mi fratello più grande Che si chiedeva In cucina A giocare I miei primi amici E io che non capisco Che stessero facendo Non mi volevano far entrare Ovviamente da piccolo E poi quando sono otto Mi hanno fatto entrare Ti ha segnato Si E invece che nel Vito cinematografico Cioè come film Come film Io proprio la base Stavo A mangiare la mela Le mele Perché come le mangiava Ogni tanto Lo scrocchiare I rumori Certo Però diciamo che Secondo me A livello di film Quello È infinita A te Mau Allora A me Io leggero sempre Solo ho letto libri fantasy Fin da bambino Sempre E quindi Sempre Per quanto riguarda I film Sicuramente Quello che ha fatto La svolta Ma anche perché Era un po' più grandicello È stato Signore degli Anelli Perché appunto Era nelle medie Quindi capisci anche Un po' di più Fantaghiro Tantissimo Quello proprio È una bomba E poi Mi ricorderò sempre Un libro Un film Barra cartone Che era un mix dei due Che si chiamava qualcosa Tipo Bookmaster O una roba simile In cui praticamente C'era Se non sbaglio Malakao Kalkin Quello di Mamma Persolero Che andava in sta libreria E i libri erano Dei personaggi C'era il libro Pirata Quello dei libri Horror E la fata Quello proprio Quello Probabilmente fa cagare Adesso Però io l'avrò guardato 50 volte Quello proprio Segnato Fantastico E Jumanji E Jumanji Jumanji me la faccia paura Se andiamo a vedere Ragazzi c'è proprio Una filmografia Che spazia Per tutti i gusti Senza proprio Nei pensare nel fantasy Però diciamo una cosa Cioè Vabbè La storia è finita La storia è finita forse Però fino al Signore degli Anelli Proprio fantasy Di questi mondi Come poi ci sono stati Gli ultimi anni Ci hanno provato Secondo me All'epoca Tanti ci hanno provato Però non c'erano Forse i mezzi Cose Sì Che facevano In un certo punto Sì A me con Annel Barbro Pacevano un casino Sì Esatto Poi vabbè Tutta la parte Dei manga Comunque Sì Sì Beh Certo Tutti i manga Lo erano praticamente Tutti quanti Però Il Signore degli Anelli Il Signore degli Anelli Al merito di aver dato La svolta A parte cinematograficamente Che lì è proprio Cambiato tutto Sì Ha cambiato gli effetti speciali Del cinema proprio Ha cambiato la storia del cinema E poi ha cambiato sicuramente Anche la storia dei nerd Perché cioè Come lui è riuscito a mettere Il Signore degli Anelli Su pellicola E renderlo accessibile a tutti Ha cambiato sicuramente Come i nerd vivono al mondo E secondo me Una roba identica L'ha fatta Il Trono di Spade Con la serie tv Quando è uscita Perché ha proprio Dato Ha dato via libera I nerd Ha svolgato ancora di più Sì esatto Perché poi sono usciti Il Trono di Spade Quattro anni dopo Stranger Things In cui iniziano Che giocano a D&D Buono lì Proprio è stato Liberi tutti Sì Iniziato con Il Signore degli Anelli E quelli che sono usciti dopo Hanno messo Gli ultimi pezzi Del puzzle Che mancavano Comunque se uno ci pensa Ci sono proprio grandi cose Che hanno impattato Tutte le generazioni Moderne Signore degli Anelli Harry Potter Star Wars Comunque Avranno fatto anche La seconda trilogia Hanno fatto anche In tempi recenti Nell'ultimo ventennio Sì Seconda e terza Trilogia La seconda L'hanno fatta Poi meno incontro 2001 Forse è uscita anche lei In quegli anni lì Usciva Appunto Il Trono di Spade Ci è uscita tanta roba Tanto nerd E adesso ripartono Perché ormai Puppano nel passato Adesso ripartono Fanno un reboot Il Signore degli Anelli Vediamo Vabbè Comunque Cambiamo argomento Cambiamo argomento Comunque Abbiamo parlato Dell'importanza Dei background storici Che ci hanno un po' segnato No? Parliamo ora di giochi Dove il background È lievemente in secondo piano Nel senso che è presente Alcune persone lo amano Lo amano proprio alla follia Altre persone invece Ci vivono bene Cioè ci vivono lo stesso senso Sì E io direi che in quest'ambito Riendano soprattutto Alcuni tipi di giochi in scatola E alcuni tipi di giochi di carte Probabilmente Sì Forse anche qualche gioco di miniature Forse anche qualche gioco di miniature Sì Sì Allora io direi che i giochi in scatola Vabbè Risico Monopoli I giochi più famosi Quello il background incide zero Sì Cioè ci fanno poi dopo Il background dopo Sì Anche perché Come dicevi tu Mentre ne stavamo parlando prima Ci sono Monopoli e risico Ne fanno diversioni Di tutto Sì sì Puoi fare star wars Puoi fare Sì Puoi fare Che cavolo vuoi Sicuramente ci sono Giustamente Sì 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 Invece Da tavolo In particolare La storia è creata soltanto Per dare un senso al gioco Cioè per poterlo vendere Con una qualche base Più o meno solida che sia Cioè per far da collante Alle regole che si sono ideate Ti dicono Sei il nuovo eroe Che salverà questo pianeta E tu Non sono io Assolutamente Ci voglio giocare Esatto Così Sì Puoi spiegare magari Delle meccaniche Che ci sono in gioco Dicono Cioè devi fare questo Devi fare quest'altro Allora c'è questa meccanica Che ha un senso Perché la storia lo prevede Esatto Esatto Uno degli esempi principali Come accennavo prima È quel gioco che si chiama I quattro I quattro consiglieri I quattro consiglieri Che è un gioco da tavolo Molto carino Molto carino Io non so quali siano Le specifiche Di giochi da tavolo Cioè sai German Pippo Caio Non lo so Quello è un piazzamento Fondamentalmente Un piazzamento Buono è il nostro spacciatore È un piazzamento Se non ci avete mai giocato Magari avete giocato Un Ticket to Ride Lo ricorda abbastanza Come a livello di meccanica Sì La differenza è che io quel gioco Non avevo vinto Invece a Ticket to Ride Non l'ho mai perso Quindi la differenza fondamentale è quella Perché ha giocato tipo due volte No Però ho giocato 40 partite Ma non l'ho mai perso Non hanno ancora giocato Ho giocato tante volte con altri Vabbè Cosa vuolvi dirci? No Volevo dire che Questo gioco qua Ha delle regole Estremamente belle È un gioco che Intrattiene Esatto Il background è stato creato Apposta solamente Per rendere un po' Interessanti Queste regole Cioè per Sì Nei peccari Esatto Perché le meccaniche Stanno benissimo da sole Però le condisci con le regole Che gli danno un po' di sapore Per rimanere in tema cibo Disclaimer Probabilmente esistono I giochi in scatola Che voi conoscete Che hanno un background Davvero importante Ci riscrivete nei commenti Perché non ne vengono in mente In questo momento Magari c'è anche giocato Ma ora come ora Non me ne vengono in mente Ma anche perché Io dico la verità Io penso che I giochi da tavolo Poi qua sbaglierò È venuto in mente Le leggende Di Andor È un gioco In scatola Che è molto La storia Si evolui Mentre stai giocando Ed è un fantasy In cui Uccidere i mostri Non è la cosa principale Perché se uccidi i mostri Avanza velocemente Il tempo della storia E quindi c'è il rischio Che avanza troppo velocemente Per l'evoluzione Dei tuoi personaggi E c'è la storia Che si evolve Mentre stai giocando Ti faccio una domanda Buona E secondo me Può essere La domanda un po' principale Per quanto riguarda L'applicazione del background Ai giochi In generale Ai giochi Secondo te Hanno avuto prima L'idea del background O delle regole? Questo secondo me Definisce quanto è importante Il background Io Vai Paul scusi Secondo me Più delle volte Per molti giochi Prima fanno le regole E poi li studiano indietro Un background Che Si va O a meno che Non prendano regole Già in un altro gioco Studiano un background Che si può O gli viene in mente Un'idea di storia E usano delle regole già esistenti Quindi hanno creato prima le regole Ci sono le regole sempre Io sono d'accordo Ho trovato un gioco Arcam Horror No Michael 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 è Michael è un gioco Dove viene prima il background Totalmente Perché tu Anzi tu e i tuoi colleghi Chi ha inventato quel gioco È un cazzo di genio Siete un gioco Una storia vera comunque Vabbè Cosa vuol dire? A un certo punto immagino Vabbè C'era un tizio con personalità multiple È basato su una storia di uno Che ha personalità multiple Ed è molto simile Anche il finale Non spoileriamo Non spoileriamo Però vabbè Per capirci Questo Tu e i tuoi colleghi Siete un panel di psicanalisti Psicologi Sì Che incontrano questo Michael Che è il gioco E insieme dovete risolvere Michael Perché Michael ha personalità multiple Sì E quindi voi parlate con il gioco Che interagisce in base a Praticamente Non è che ci parlate fisicamente In maniera estremamente intelligente Le azioni che fate Fanno interagire E il gioco risponde in un certo modo In un altro modo E mano a mano Che fate azioni corrette Riuscite a sbloccare indizi Che sbloccano delle personalità E andate sempre più a fondo Nella psiche di questo Michael Quindi quello è un gioco Che secondo me Hanno avuto prima l'idea E poi hanno detto Ma come possiamo rendere una cosa del genere? E quello è un gioco Potrei rigiocare Perché non me lo ricordo più Così tanto Per carità Però Tipo un altro Time Story Che è Bravo Time Story anche È abbastanza Non me lo ricordo C'è un altro Tutto basato su Appunto La storia Che si va a sviluppare E di nuovo Purtroppo Quelli che hanno La storia Che noi Come dicevi tu O ci li giochi dopo tanto tempo O comunque Ci giochi una volta Perché sai la storia Ma Time Story Che gioca Ma Time Story Non è proprio Che c'è un background dietro Lo crei tu la storia Però c'è È un po' gioco di ruolo È molto gioco di ruolo È un po' trasposto Però sono tutti quei giochi In cui se il background È molto dominante Sul gioco Ci giochi una Volta Due Poi ti spiace quasi Rigiocarlo No poi sai Come risolverlo Sì Come Michael Quindi secondo me Dove c'è la storia Che ha un aspetto Molto importante Nel gioco Scatola Dovrebbe essere Il tema Scusate Dovrebbe essere Legacy Che sono i giochi Che ci giochi una volta Sì Legacy E poi Li butti Li accantoni Sì Li metti nei trofei Magari ci giochi Dopo un bel po' di anni Io ho giocato A pochi Legacy Ma i giochi Legacy Sono una meraviglia Tutti i soldi spesi Forse Forse di più Secondo me Secondo me Infatti Michael Sono i 25 euro Meglio spesi che potete avere Compratelo Dopo i 13 euro Di questo libro Io mi permetto di dire Che questo libro Se lo trovate a 100 euro Secondo me dovete comprarlo Se non ce l'avete in libreria C'è nella biblioteca Magari abbonate a Dodi Ah sì giusto 9 euro 90 al mese Se è da posto Forse va meno No comunque Michael Secondo me Trovatevi 4 o 5 amici Giocateci Forse massimo 6 Mi sembrano i giocatori A me pareva 4 Forse 4 Perché noi ci abbiamo giocato in 4 Bellissimo Bello bello Che gioco E i giochi Legacy Secondo me piacciono molto Sono tutti one shot E un tempo avevo paura A spendere questi soldi A dire Ma come spendo questi soldi Per un gioco Però mi piacciono sempre Qualcosa di bello E sono esperienze Piacere le esperienze Sennò non arriverebbero in Italia Secondo me Sono un po' di essere Belle esperienze Che quasi tutte queste cose Sono sviluppate a me Ma prima di affrontare altri giochi Quanto Non so come dire Ma Quanto secondo No Quanto secondo voi È fondamentale Specialmente nell'aspetto ludico Che Anzi voi ritenete migliori I giochi Specialmente da tavolo Visto che stiamo parlando di questi In cui il background È preponderante O meno Beh io ho appena risposto Tu hai detto che sono esperienze uniche Quindi Però Sì Però secondo te Sono esperienze uniche Ma rende il gioco migliore Per dire di ticket to ride È un gioco fighissimo È un gioco fighissimo Mi piace giocare a ticket to ride Però Come sono io Sì Per il mio gusto personale Preferisco quei giochi lì E poco fa Non mi erano inventati Perché si stessero giochi Dove il background era Predominante Però Adesso che Sì Preferisco quei giochi lì E preferisco giocarci una volta Ma C'è perché sorigenza Perché io non ho tantissimo tempo Per giocare A altre cose E quindi il tempo che investo Mi trovi totalmente d'accordo Bello Totalmente Buona Io vado un po' con tutti i giochi A buona piace tutto A buona piace tutto Ma ci sta Ma una risposta validissima Magari ho qualche gioco Che tipo le giri di gioco Sono un po' più Propense a giocare Rispetto ad altri Però sui giochi in scatola Mi piacciono abbastanza tutti Cioè Mi piacciono Quelli in cui La storia è molto preponderante Quelli in cui Vabbè Non Riesel Come come Quelli sono a parte Però in cui C'è la storia Ma anche Tipo il consiglio dei quattro C'è una storia Ma anche se non ci fosse Io ci giocarei lo stesso Perché comunque è una bella meccanica Ticket to ride Non c'è una storia Fondamentalmente Però Mi piace come è A livello di gioco Per me Bene o male Mi piacciono un po' tutti No È un'ottima posizione C'è un punto validissimo Punto validissimo Sì Bravo Soprattutto la considerazione Del fatto che Anche se non avesse Il background dietro I quattro consigliere Giocheresti lo stesso Io forse non l'avrei giocato Cioè mi fosse stato presentato Senza il background Quindi è una cosa Se forse non l'avresti scelto Ma poi giocando Ci stai divertito Uguale perché non ti Lai in più nel gioco Sì Probabilmente sì Probabilmente sì È possibile Ragazzi Se siete arrivati fino a questo punto Magari lascia a te Un like A questo video Perché se siete arrivati Qui qua Vuol dire che non vi abbiamo Annoiato ancora del tutto Esatto Ci penseremo nei prossimi minuti Poi se invece siete presi proprio bene Volete parlare con noi Iniziate a lasciare qualche commento Perché se diventa una live A questi commenti risponderemo E quindi Dovremo interagire Interagiremo Ma a me non dispiace Quindi Il fatto di poter parlare con voi Con molti ci parliamo già Con i Patreon Ci parliamo già spesso Perché abbiamo un gruppo Whatsapp Dove ci scriviamo E ci raccontiamo cavolate Tutto il giorno Esatto Però dai Anche in live Deve essere interessante Anche quando intervenite voi Sicuramente Ci sono spunti migliori E la live Secondo me può percorrere Non ci perdiamo Sicuramente Noi a parlare di No Di ricordi Probabilmente ci perderemo A parlare con quello Che ci dice anche la chat Che è una cosa ancora più carina Quindi ci sta I giochi di carte Sì Questa è un'altra grande famiglia Ovviamente Che ha bisogno di background O no? Punto di domanda Sì Per me è fondamentale Cioè Per me è fondamentale Nel senso che Secondo me Da tanto in più Non dico che Senza non ci giocherei Però secondo me Con Ci gioco e ci rigioco Probabilmente senza voi Mi annoio Io sono d'accordo Io adesso posso dire Che come gioco di carte Mi viene in mente One Piece Perché stanno giocando Tanti ragazzi qua Sì Mi viene in mente Magic ragazzi ovviamente Mi viene in mente Yu-Gi-Oh Sì A me ne vengono in mente Pochi di più Mi viene ancora in mente Quello Keyforge Keyforge Che mi è venuto in mente Che è un gioco di carte Sul computer Che si chiama Urban Rivals Che ci giocavo Più di dieci anni fa Non so se esista ancora E lì il background Era diverso Nel senso che c'erano Le fazioni Insomma Gangsta E Sì c'erano tutte Le varie fazioni E c'era il background Delle carte Quindi tu Il personaggio che giocavi Aveva una storia Abbastanza Non erano tante righe Però tu Avevi la storia Del tuo personaggio E Si interagiva Con la storia Di altri personaggi Poi per carità Nel gioco Non era importante Eccetera A meno che non facesse parte Dello stesso clan Avevano un background Comunque Però ogni carta Aveva il proprio background E poi i grandi clan Avevano un background E la storia Andava avanti Poi ogni tanto Quali personaggio spariva Non potevi più giocare A quella carta Ah Anzi Forse quella carta lì Non potevi più acquistarla Quindi diventava Tipo Collector O robe del genere Quindi potevi solo Acquistarla da altri giocatori Che già l'avevano presa Avevano una sbustata Bustina In quell'epoca lì Perché magari Era andato in pensione Era morto Era successo qualcosa Bella Bella idea Questa era Una cosa un po' diversa Poi Magic invece Ha una storia che va avanti Se avessero in Planeswalker Insomma Ha una storia che va avanti Si si Beh anche prima Andava avanti La conosco da poco prima Allora io Il background di Magic L'ho approfondito Da Lorwyn Che sono arrivati In Planeswalker Di fatto Perché Liliana Chandra Eccetera Sono usciti in Lorwyn Se non sbaglio Jace Lorwyn Alara Zendikar E Eldrazi Secondo me sono stati Quelli più belli Primo fondamentalmente Era tutto su Dominaria Che era il mondo Dominaria Erexia Sono stati due C'è stato Kamigawa Poi C'è stato Kamigawa Sono state due belle parentesi Ma si Il background è estremamente ampio Hanno un multiverso Hanno come in D&D Quindi c'è tutto quello che vuoi Cioè Mi ha portato per dire Che a me spiazza un po' Un background così ampio Si Ti dirò che a me spiazzano Un po' i background così Grossi Ma anche Eh non Abbiamo parlato da Marvel Quando parlano della tv Però Si A me il background è enorme così Dove tutto può succedere Si E' una paraculata un background così Puoi metterci il cazzo che vuoi Si E poi soprattutto Non lo so Non posso fantasticare Perché posso fantasticare Immaginare quel che voglio E' il contrario di tutto E' il contrario di tutto Si esatto E quindi Mi hanno messo un'espansione di Magic Pirati di dinosauri assieme Si E funzionava Per me è molto ampio In Magic C'è stato un periodo dove mi ero appassionato proprio del background Non vedevo l'ora che uscisse una nuova espansione solo per sapere il background Si E delle carte mi importava di meno Però una piccola parentesi Una maggior parte del tempo Ho pensato più a che carte uscivano Come metterle nel mazzo Ecco io posso dire che Io ho in mente un filone narrativo principale di Magic E ci sono tanti filoni filler Tra virgoletti Che sono cose a parte Che vengono aggiunte E magari un placewalker va di lì E poi un placewalker va di là E quelle sono le cose che a me piacciono di meno Perché sono proprio cose messe soltanto per infiore Nelle serie tv Esatto Esatto Mentre invece il filone narrativo centrale Siccome è molto bello Ci sono alcune cose Ad esempio due settimane fa Ho guardato il video Che aveva introduttivo di Guerra dei placewalkers Forse una roba simile In cui c'era Liliana che si sacrificava contro Nicole Bolas E c'erano i Link in Paris sottofondo Ad esempio quelle sono cose che Sono fighe Sono molto fighe Quelli sono bellissimi Quei video di Magic Vabbè lì parlavo proprio di Un po' di arte Perché per me i video della Blizzard E di Magic sono incredibili Cioè quando c'è un nuovo Io World of Warcraft non ci ho mai giocato Ma quando c'è un video di World of Warcraft Dì me lo guardo Eh sì Beh a proposito di World of Warcraft È sicuramente uno dei background più fighi che ci siano Anzi sì Sì uno dei background Uno delle ambientazioni Ha anche avuto tanti sviluppi Come storia Estremamente interessanti E hai cambiato anche tanto Gli ultimi magari un po' O meno un po' tirata Però Madonna Io parto da Warcraft ancora prima Certo Ecco io mi fermo a Warcraft 3 Certo Quindi arrivo lì Vabbè da lì arrivano anche I tre personaggi più fighi in assoluto Proprio no Dai Warcraft Bartas Eh certo Sylvanas Sylvanas che per tutta la storia è stata una figa pazzesca Madonna Madonna Sì sì Pral Sì E adesso è ancora fighissimo L'avete visto l'ultimo trailer in cui ci sono Varian e Tral Ah ma quello lì è quello con cui parla Varian No è Tral No c'è È lui Sì È Tral imbecchiato Sì Con tutti i capelli grigi La barba grigi Fighissimo Sì Vabbè quello comunque è un background Mi dispiace tanto che non abbiano fatto il gioco di miniature Di quella L'ho sempre desiderato Sempre desiderato Hanno fatto un film Che Che era fighissimo Sì era fighissimo Quel film era fighissimo Bellissimo Ma io non capisco perché non l'abbiano portato avanti Cioè potevano avere un francese in fantastico C'erano notizie di un proseguo del Però mi sembra che Ecco se qualcuno di voi Ha raccolto Ha trovato informazioni al riguardo Se ce lo mette nei commenti È figlio di qualcuno che ha prodotto il film O simili Ma oh Avete influenze Ma deve produrre un altro Esatto Porca miseria No davvero bellissimo Facciamolo Petizione No era davvero bello Davvero davvero bello Peccato Comunque A proposito di background Dei videogame Ah dei videogame Ma dei videogame ce ne sono alcuni che hanno un background importante GTA GTA Che nessuno sa ma c'è I videogame secondo voi nascono come i giochi da tavoli con prima il background Anzi con prima le regole tendenzialmente i giochi da tavolo Dipende Prima le regole poi la storia Dipende da che periodo storico vai a vedere Se si chiama FIFA O di ProSpeed Non credo che ci sia stato questo background da trovare lì Per me è cambiato tanto Nel passare Io Come hai detto prima Io Un bel po' che gioco con i giochi per computer Ed è Si è voluto molto Il gioco col passare del tempo Certo Alcuni Avevano una storia che c'era Ma era più Come in alcuni casi Una scusante Per crearci il gioco Condimento Si in altri casi invece Era fondamentale Era la portata principale Si Due giochi semplici Molto molto vecchi Che erano New Zealand Story In cui tu sei Un kiwi L'animaletto Che avanza tra i livelli Tirando sparando delle frecce Per salvare i suoi simili Vanno le braccia i kiwi Non ti fai certe domande Perché spara delle frecce Avranno le alette forse Ma non buono no? Ma infatti saltavi al massimo E avevi le scarpe da ginnastica E come sparavi le frecce? Le sparavi tosta Le sputavi E dovevi salvare i tuoi simili Che erano stati rapiti Un altro Moonstone In cui sei lì i cavalieri Che devono affrontare Una specie di epocalisse C'è una storia dietro Ma devo farti solo una domanda Io ho una domanda importante Chi ha rapito i kiwi? Ma chi ha rapito i kiwi? Sai che non devo riguardarmi Ma chi ha rapito i kiwi? Io ho una domanda più importante Ma il background di Pac-Man Qual è buona? Sta palla gialla Ma che cazzo si mangia? Una palla che mangia palle Che diventano fantasmi E poi la mangiano Poi diventano i fantasmi Sai che non è la mia idea Ma chi sono quei fantasmi? Allora io penso di avere Più o meno sentito Qualche informazione Riguardo al suo background Dal film Pixel Non so se l'avete visto Con Adam Sandler In cui forse Fa il presidente degli Stati Uniti Una roba simile No un suo amico Il presidente degli Stati Uniti Ah un suo amico Ah è vero Lui fa il tizio nerd Che ripara le cose Le tv E cose così Sì Secondo me lì Spiegavano qualcosa di Pac-Man Ma non penso Abbiamo un minimo di senso Quella roba Allora diciamo che i primi giochi Non avevano un senso No Esatto Erano dei pixel Che si muovono Esatto Però ad esempio Final Fantasy Penso che sia chiaramente Nato prima il background Cioè un background complesso Sì Bellissimo anche Cioè alcuni Final Fantasy Più alcuni meno Forse i primi due Final Fantasy Penso che dal terzo in poi C'è una storia Che si fa sviluppare Fine giorni nostri Sì adesso siamo al 16 Mi sembra 15-16 Comunque La storia è fantastica In alcuni Ti viene la pelle d'oca Alcune evoluzioni che ci sono Bona Qual è il videogioco Con la storia più figa di tutti? Lo sai? L'abbiamo detto prima Abbiamo aiutato Wink 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 Warker No The Order Ah mia Bona No Sì The Order Gioco per Play 4 Che era uscito Cortissimo Però giocavi un film Cioè la storia ti prendeva Posso dire che Tu guardavi un film Ogni tanto diceva Premi cerchio E tu premi cerchio Tu guardavi un film Ogni tanto si metteva in pausa Dovevi schiacciare Play Era così Era così Però bello Bellissimo Eri tu Bellissimo Davvero bellissimo Secondo me C'è una considerazione da fare Secondo me sono come I videogame Nel senso che Scusate I videogame sono come i giochi da tavolo Nel senso che se sono Legacy Il background è importantissimo E bellissimo Tipo The Order Tipo The Order Tipo Ma anche Un po' Final Fantasy Nel senso Ma anche Assassin's Creed Serie che ha fatto Non è che poi vai a rigiocarlo Voi magari a completare le missioni Però la storia Sì vai a platinarlo Esatto Vai a platinarlo Ma la storia che vivi È quella Ma anche A me era piaciuto tantissimo Batman Arkham City Arkham O anche Shadow of Mordor Non so se ci avete giocato Sì E poi lì È importante La storia Fondamentale E sono un po' Legacy Perché poi io non è che Mi sono andato a riprendere Sono un po' Legacy Un po' gioco di ruolo Secondo me hanno quel mix lì Sì Però tu una volta che l'hai fatto In grosso modo l'hai fatto Non ti può dare le stesse sensazioni Della prima volta Seconda volta Ecco Secondo me è un gioco Ce ne sono tanti sicuramente così Però io Quello che mi ricordo È quello Anche perché ho giocato A pochissimi videogiochi È An Infamous Infamous Quello in cui lui Guadagna il potere dell'elettricità Che puoi scegliere Se essere bravo Era gratis Sì Era gratis sulla Play Store Puoi scegliere Se essere buono o cattivo E quindi è un gioco di ruolo Mezzo Legacy Perché lo puoi giocare più volte Vedere come va Il finale è sempre lo stesso ovviamente Però Come avvolvi la storia Può essere leggermente diversa I classici RTS O anche appunto Andiamo a vedere giochi Come abbiamo citato Warcraft Starcraft La storia È quella Ti prendi Ti coinvolge Tu giochi al gioco Però Ci fosse la storia Magari Meno presente Ci giocheresti uguale Però In alcune situazioni Soprattutto Nell'ultimo Inter Starcraft La storia Ti fa andare avanti Con le missioni Perché sennò Alla fine Con gli ambiti Diventa un po' ripetitivo Secondo me La storia In quei giochi È fondamentale Sennò diventano Palmi di poca Ripetitivi Magari dei personaggi E c'è Tipo Ma sì sì Ma tipo League of Legends O Dota Quei giochi Hanno fatto Anche degli anime A riguardo Vabbè Madonna Arcane è fighissimo Ma anche di Dota l'hanno fatto Le ho visti Qualche puntate con Ah Dota sì Quello di Sì È carino L'anime Ma è sempre abbastanza Quanto mi hanno detto Gente che sa più di me Di quella storia lì Ma Parliamo di quello Che ci sta più a cuore L'alcol Esatto Quanto è importante Il background Nell'alcol Molto importante Io faccio vino E le storie Del vino Sono importantissime Giusto Passiamo ai giochi Di miniature Non abbiamo stoccato i libri Perché sennò è troppo ampio Però lì sono i background Sì esatto Questo è il background Sì Se un libro O un film Non ha il background No però Ne potremmo magari Accennare qualcosa Quando discuteremo Per chiudere la puntata Della profondità O un libro Si sto per dire Se un film non ha il background Si chiama La battaglia delle cinque armate Del terzo dell'hobbit Che non succede niente Vabbè scusa C'è anche la versione stesa Perfetto Ma non vedo l'ora La stavo per acquistare ieri Su Amazon Prime Bene Quindi Miniature Giocchi di miniature Modellini Pupazzi Giocchi per cui siete qua Non è detto Non è detto Speriamo di no Non ci avete conosciuto Tramite questo Sì È probabile È sicuro Allora Warhammer Warhammer Perché si parte da lì Sì Alloria Io devo fare una bella considerazione Il vecchio mondo Aveva un certo tipo di background E Joe Sigmar Ha completamente un altro tipo di background Sì Quello del vecchio mondo Prendeva più forse me Quello della mia generazione Nel senso che proprio ti affascinava Tu volevi assolutamente Sapere tutto E volevi proprio vivere Molto di più il background Almeno io me l'avevo vissuta così Invece adesso in house Lo stiamo pian piano scoprendo Anche noi con i podcast Cioè ci siamo interessati Per capire qualcosa Ma è molto più immediato Nel senso io vedo una miniatura Vedo un gigante Più o meno so il suo background Solo perché sono così bravi a scolpire Che mi trasmettono qualcosa Io cambierei solo una parola Della tua frase Vai E cioè che il background del vecchio mondo Potevi viverlo un po' di più E non solo volevi Perché secondo me potevi La differenza fondamentale È che ti potevi immergere proprio Nel background Potevi sentirtene parte Perché c'erano gli umani normali Che facevano un lavitaccia Che tu potevi ipotizzare di fare In quel mondo Secondo me quello è un aspetto fondamentale Ma anche se non potevi Potevi comunque immaginare Di essere In un medioevo fantasy In un medioevo fantasy Un orco Un vampiro Quello che ti piaceva di più Un elfo E il tuo personaggio E il tuo personaggio Eri tu Il tuo liberale Eri tu E potevi veramente cambiare Lievemente la storia Posso farmi una confessione Da malato Che mi vergogna un casino dirlo Non ti piacciono gli orchi? No 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 way Va Le basi Questo Diciamo che avevo un'età compresa Tra gli 0 e i 25 anni Non la dico soltanto Per non fare figure di merda E ogni tanto mi immaginavo Quando era a casa nel letto Quindi i 25 convivevo già Per cui un po' meno forse E mi coprivo tutto Con le coperte E poi sognavo Cioè immaginavo Di addormentarmi E risvegliarmi Tipo sotto un albero Fuori da Aldorf E mi pensavo Cosa farei In quel caso? Innanzitutto Sapevi parlarla La lingua del vecchio mondo Come sarei vestito? E adesso che cosa dovrei fare? Come faccio a lavarmi? Capito? Adesso è un genre Dei manga E' una categoria proprio Ah una tipologia di manga? E' proprio una tipologia che Da qualche anno Di farsi i viaggi? No E' isekai Che praticamente sono personaggi Che si vengono trasportati In un altro modo Principalmente fantasy Per vari metodi O vicissitudini E iniziano a vivere In quel mondo fantasy Ma è proprio una categoria Senza l'ausilio di droghe? No a volte Ogni tanto magari anche No Principalmente senza l'ausilio di droghe Diciamo che è una cosa che esiste Cioè è proprio una categoria Anche senza l'alcolice Non bevevo all'epoca era stemio Non bevevo Ok C'è stato sin Sì Vabbè Però Ora ci consigli bevano Questo per far Esatto Questo per Per far capire Quanto ci si poteva Immedesimare In quel mondo E quanto poteva Prenderti E volerti Volerti sentire parte Di quell'ambiente No? Vabbè Noi siamo molto più Presi da quell'ambiente lì Perché Come hai detto tu Sono qualche medioevo Medioevo Fantasy Comunque Anni fa Non hanno storia Sì poveracci Ed in effetti E a loro Può darsi che in effetti A loro il medioevo Prenda un po' di meno Perché non ce l'hanno Nella loro storia Sì Noi giriamo Ha senso? Non lo so Sì Non lo so Fai due passi nella tua città E vedi cose medievali Ah Più o meno dovevunque Tu viva Sì Giusto Non ho una considerazione Gli americani Quanto ho capito Per Roma L'impero romano Quella l'hanno avuta un po' tutti Beh certo Ovviamente Poi adesso non se ne parla più tanto No però va ancora tanto È uno dei più grandi Però L'impero coloniale britannico L'impero coloniale britannico Era il più grande Il più ampio È quello di Alessandro Beh L'Alessandro sì Per terre conosciute Però Cioè Lo conosciamo quella parte Di mondo lì Certo L'impero coloniale britannico Era il più ampio Come distinzione geografica Agire Balzo Insegna la storia Se non la sbalta Alessandro Barbero Ma penso che fosse un show Su Youtube No comunque Sicuramente Questi due background Sono molto diversi Poi non citiamo Warhammer 40.000 Perché io il background Lo conosco poco E io quel che conosco È fantastico Posso dire che Quello che conosco Di Warhammer 40.000 Come background Forse potrebbe essere Più bello di Fallout Fantasy Io non so come mai Però a me Il futuristico Proprio non prenda Vabbè prende meno Ma neanche nei videogiochi No 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 Non so come mai Però ecco Secondo voi come mai Certe tipologie di background Prendono di più Di altre Perché è palese Che sia così Cioè proprio palese Totalmente A gusti Autoimmedesimazione Dici Tu sogni di Di svegliarti Di fianco ad Aldorff Se tu sogni Di svegliarti Di fianco ad Aldorff Difficile Sogni di svegliarti In una navicella spaziale O in un mondo Quindi buona Tu sogni di svegliarti In una navicella spaziale Sogno tante cose Ma non le referirò Qua ai miei sogni Perfetto No comunque Secondo me Quanto uno si immedesima Quanto uno desidera Harry Potter Non so dove vogliamo piazzare Se è futuristico o no Contemporaneo Contemporaneo Perfetto Ma ci sono tanti fantasy così Tanti fan di Harry Potter Che vorrebbero un sacco Vivere in un mondo simile Quella effettivamente Proprio evasione Dal mondo attuale L'evasione del mondo attuale Secondo me Potrebbe essere Per estensione Qualunque Hobby passatempo O roba che ti fa Scaricare un attimo Dei problemi Della tua vita Cioè No certo In queste serate nerd Noi non pensiamo ai problemi Che ci aspettano domani O che abbiamo lasciato a casa Ci penseremo domani O quando torneremo a casa Certo Però dico Quello lì è proprio Un esempio di fantasy Che Essendo contemporaneo Mostra qualcuno Che sta evadendo Dai problemi attuali Un po' come appunto Come facevano Le cronache di Narnia All'epoca È un po' Un corrispettivo attuale Rispetto al fantasy classico Signore di anelli O quello che uno vuole Comunque Tornando ai giochi di miniatura Allora Quanto è importante Questo background Nei giochi di miniatura In Warhammer Parliamo di Warhammer E Joe Sigmar Che è il gioco A cui giochiamo In questo momento Sì Beh secondo me È molto importante In realtà Molto importante Voglio dire È estremamente presente Nel gioco Lo si può Tranquillamente giocare Senza conoscere il background Totalmente Perché tantissima gente Che ci gioca Non conosce minimamente Il background Io ho detto sì Prima ma in effetti Fino a che non abbiamo Iniziato a fare i podcast Inizialmente Ma in realtà L'hanno fatto loro Io il background A parte qualche dettaglio Quella Background di Aos Però tu Non conoscevi il background di Aos Ma conoscevi il background Della tua armata Quello sì E secondo me Quello è una cosa Un po' importante Io ho scelto Icaratron Perché Mi piaceva il background Poi ho letto Solo quello Però Mi piaceva il background Quello sì Quindi vuol dire che Secondo me Un'importanza ce l'ha Un'importanza ce l'ha Anche se sono strascichi Del vecchio mondo Come Soulblight Esatto In tanti casi Oddio Slanesh anche magari Non lo so Ma Per meglio Sono strascichi Sì Sono strascichi Per carità Però Soulblight Non è la storia Di Vlad Von Carson Isabella E Manfred No Manfred c'è ancora Manfred c'è ancora Ma è un servo di Nagash Un servo Che trama Comunque Cambiato quasi tutto Dice Nagash Che c'è Slanesh Come abbiamo detto Un'altra volta Un tempo era solo Sesso e perversione Adesso E ha tutto tondo I peccati capitali Tra quello dell'ira Che partiene sempre a corto Anche lì È cambiata la concezione Poi dobbiamo dividere Il background delle armate Cioè Un esercito Con il background di Age of Sigmar Che è una cosa Una storia che va avanti A me ecco Quello che piace tantissimo Di questo gioco È che la storia Star andando avanti Cioè ogni volta Che c'è una campagna Proprio in questo momento Sta andando avanti la storia E le cose della campagna Le fanno apposta Per spostare un attimo Il focus Esatto E quindi noi abbiamo giocato E lo stiamo facendo bene E questo è secondo me Proprio uno dei vantaggi Di questo tipo di background Che era uno Delle grandi difetti Del background Come era quello Del vecchio mondo Perché era talmente concentrato Talmente specifico Che era quasi impossibile Farlo evolvere Ci hanno provato Ci hanno provato Anche con la tempesta del caos Ci hanno provato Però non poteva funzionare tanto Cioè Non potevi cambiare Un'idea così radicata Era impossibile Cambiare una virgola Esatto Però tu potevi cambiare una virgola Inserendo nuove cose In nuovi mondi Quello sì Cioè In nuovi parti Lo ampliavi Però non lo evolvevi No E invece questo Background Sta evolvendo Sì Continuamente Ma hanno preso spunto Secondo me un po' Infatti anche nel 40k Lo stanno facendo Io questo non lo so C'è un'evoluzione Del background Adesso non so Se C'è stata l'evoluzione Del background Prima nel fantasy Cioè In house O nel 40k Perché anche lì C'è stato un periodo Di stagnazione Della storia E l'hanno fatto Fare un salto in avanti Personaggi storici Che sono morti Pianeti che sono stati distrutti Che erano pianeti storici Lì è più facile Il mondo è molto più ampio Come in major sigma Più l'altro Puoi distruggere un mondo In major sigma Secondo me c'è stata Quest'evoluzione Perché E' ambientato Il mondo Enorme E' ampio Ma nel fantasy Per dire Non potevi ammazzare Un personaggio col nome A meno che non fosse Già morto nella storia Potevi Ne raccontavi la storia Però O raccontavi Questo tizio è morto Totto tempo fa Oppure non potevi dire Muore cara Franz Non potevi Era impossibile Non potevi Se volevi Secondo me potevi Cioè Se volevano andare avanti Potevano Ma quanto avremmo storto il naso Muore Grimgor E' morto te Chris No Era impossibile Cioè Secondo me Era impossibile Aspetta C'è un'altra cosa All'epoca Avevamo anche un'altra età Un'altra maturità Dici tu Era Differente anche L'età che avevamo E quindi Come ci approcciavamo Cioè Cambiarti Far morire un personaggio Lo vedevano come Una cosa impensabile Adesso per noi E' una normale evoluzione Della storia Avevamo un'altra età Però c'erano giochi Che lo facevano Però non è che Potevamo giocare Non è che Adesso abbiamo una concessione diversa Anche perché è successo Quello che è successo All'Ecchio Mondo Ne hanno uccisi tutti Per cui o ti adatti così O niente Si In alcuni casi Comunque Non l'aveva Molte non l'hanno preso benissimo Cos'è No 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 Lo sappiamo No certo certo Si Si Cosa preferite di background Cioè proprio Su una bilancia Tutti pro Tutti contro Preferite un background Statico Ma così tagliato Con i personaggi Così approfonditi E caratterizzati Oppure un background Più dinamico Che evolve In un mondo Molto più divino Molto più Epico Proprio epico È una domanda difficile Secondo me Oggi Oggi Poi magari Tra tre giorni C'è un'idea Perché sopra qualcosa Si A parer mio È difficile rispondere Perché non è detto Che sia Totalmente uno Totalmente l'altra Certo Certo Sono pro e contro Di tutti e due Abbiamo fin l'elenca Esatto Esatto Ad esempio A me piace Che il background Si evolva Si evolva Anche in maniera Abbastanza sostanziale E Non apprezzo molto Il background Estremamente mitici Come quello di Warhammer e Forse è un po' eccessivo Però non è neanche Così tanto vero Non lo so Ad esempio Ogni tanto Specialmente nei libri No È possibile trovare qualcosa Che è davvero mitico Di divino Che interviene All'interno del libro Che è qualcosa Che magari Mi farebbe storcere il naso A pensarci Però se inserito Nella maniera corretta Aiuta A dare un senso Alla storia Ad approfondire la storia Ti faccio la domanda In modo un po' più preciso In un gioco di miniature Come Warhammer Preferisci più uno Più l'altro Forse Adesso preferisco Age of Sigmar Tu buona Sei uno più statico Ma dettagliato O uno che in evoluzione Quello del vecchio mondo Cioè ti preferisci giocare Un gioco dove il background È quello del vecchio mondo Preferisci giocare un gioco Dove il background È quello di Age of Sigmar Senza pensare alle regole Senza pensare ai modelli Senza pensare a tutte queste altre cose Ma quindi A livello solo di storia Senza guardare Il gioco in sé Sì sì Non guardare le regole Non guardare a piangere Perché è triste Come dovrei scegliere uno o l'altro Però è vero Quello è vero È una realizzazione Vado a vedere Io ho una considerazione Allora Per quanto riguarda Per quanto riguarda Sai che Sai che? Non lo so Io ho una posizione Abbastanza netta invece Vai Il gioco che si evolve Mi attira di più Però a quel punto Non si parla più di background Ma Gioco Cioè Bona House of fantasy House of fantasy House of fantasy Solo storia House of fantasy Fantasy Ok Invece no Io sono dell'idea che E ci ho messo del tempo A maturare questa idea Però penso che Per un gioco di miniature Sia molto meglio Questo background qua Perché è molto più inclusivo E io come giocatore Mi sento più attivo Perché posso vivere La storia che va avanti Difatti la parte più bella Del background di Warhammer fantasy È end times Dove ha tutto avanti Concordo Quindi io sono di questa idea qua In un gioco di miniature Io sono contento Di aspettare la nuova campagna Esatto Perché non vedo l'ora Di sapere cosa succede Come evolve Quindi sia meglio Un background che evolve Sì In senso assoluto Il background di Warhammer fantasy Era dieci volte più bravo di questo Per me Per il mio gusto Per come mi piacciono le storie Per l'epicità Dimensità di personaggi Che prendevano cannonate nel petto E non morivano E erano delle cose incredibili Invece adesso Sei una divinità E vai giù Ti sparano Diciannovemila cannoni E tu sei caro Se ancora Vai a inseguire Esatto E noi abbiamo E quindi io Come storia Preferisco quella di Warhammer fantasy Ma in un gioco di miniature Per me è più azzeccato Una come Io e te abbiamo avuto Uno sviluppo Modellistico simile Quindi io sono Perfettamente d'accordo Con questa cosa Perfettamente Cioè Totalmente Ma la mia idea Bene o male È anche quella Cioè Dal punto di vista Solo del gioco Cioè In un gioco di miniature Secondo me è meglio questo Ha un senso assoluto L'altro Ti fa più bene Per il gioco Per la storia Che si sviluppa E però Secondo me Se il compromesso Di avere una storia Che si sviluppa E avere il background Di Aos Per me è meglio Piuttosto pago Quella cosa lì Poi dopo Per carità Anche perché Si sta evolvendo bene Sta diventando Sempre più complesso Ma sì Ha dei limiti Ha delle epicità Ha degli dei Quindi cioè Cosa puoi farci Quando un Dio Ben poco Però Ad esempio Ha degli dei che muoiono Che è una cosa Soddisfacente Sì Quello è molto interessante Però Secondo me Possiamo un po' Chiuderlo così Io però Ho un argomento Che volevo portare Stasera Non l'abbiamo toccato Minimamente Ma possiamo concludere Con questo Quanto si rispecchiano Il background Nei giochi che facciamo Perché in D&D Nei giochi Diciamo Di ruolo È tantissimo Perché tu interpreti Il background E questo L'abbiamo un po' Analizzato Tu crei il background Nei giochi di carte Nei giochi di carte Le carte Le carte tantissime volte La carta singola Spessissimo rispecchia Il background Richiama il background Sì Perfetto A volte addirittura Magari il background È stato fatto Per creare quella carta Sì Sono d'accordo Però poi dopo Tu puoi giocare cose Che non c'entrano niente L'una con l'altra In realtà I narrativi diversi Puoi alleare personaggi Che nel background Non sarebbero mai Alleati Pensando a giochi Che non sono Magic Ma anche in Magic Puoi mettere Dei playing world Che si odia Nello stesso mazzo Secondo me Abbiamo I tre punti Sull'argomento Che adesso hai tirato È che Il gioco di ruolo È l'espressione massima Il gioco di carte Secondo me È l'esatto opposto Nel mezzo Secondo me Ci stanno I giochi di miniatura Perché Quanto nel mezzo Analizziamo un po' I giochi di miniatura Più verso Secondo me Il background Quindi per te Fare un'armata Da background È molto importante E la gente gioca così No Mi avvicino di più Un'armata Per il background Che per No ma quello D'accordo Posso anche giocare Un place worker Una carta È un mazzo Un tipo di colore Perché mi piace Il background di quello Posso prendere Un personaggio di One Piece Perché mi piace quello E ci faccio un mazzo intorno Allora non ho capito la domanda No la domanda Perché secondo me Ci sono due cose Molto distinte Sono due modi Da vedere Cioè Uno se L'armata Barra Il modello Barra la carta Rispecchia il background Quella è una cosa sostanziale E l'altra è se tu Giochi rispecchiando il background Esatto Quelle sono proprio Le due distinzioni fondamentali Prima il background Quanto ti dà Ma adesso sei quanto tu Segui il background Segui il background Per giocarci Dipende dal gioco Secondo me quello In house Secondo me Non c'è più Non ti vai troppo Discostare Da il background Che ti viene dato Di un esempio Di una sottofazione Perché A livello anche di regole Ti spronano A stare Diciamo In quella bolla In keyword Sono d'accordo Sono d'accordo E quindi quello È un pregio Perché ti dicono In questa sottofazione C'è questa keyword Che rappresenta Questi modelli Tu puoi anche giocare il resto Ma non avrai I bonus Che ti dà Questa sottofazione Questa è una cosa Che anche dal punto di vista Regolistico E di design del gioco Sicuramente aiuta Perché loro tendono A fare un certo tipo Di regole Che funzionano bene Tra di loro Un certo tipo di sinergia Mettere assieme Nella stessa keyword Stessa background E quindi aiuta A guidare Sottofazioni Vale per tanti giochi In Malif È la stessa cosa In War Machine È una cosa molto simile Perché di solito Hanno le tipologie Di Come si dice Di Warlock O War Beast Che funzionano assieme E quella è una cosa Molto importante Dall'altro lato Secondo me c'è un'altra cosa Altrettanto importante Che è quella Di quanto un modello Piuttosto che una carta rispecchi O abbia dei riferimenti Al background E in questo Secondo me stanno andando Tutti nella direzione corretta Gli esempi Che mi vengono in mente Sempre di più Esatto Age of Sigmar Totalmente Proprio totalmente Un altro esempio È Un gioco a noi è caro Tipo Malif Se uno legge I nomi delle regole Che hanno Sono Quelle proprio Incredibilmente Sono geniali Ed incredibilmente Ispirati al background Le carte di magic Anche Perché di fatto Quasi tutte le carte Sono avvenimenti Della storia Oppure riferimenti diretti Alla storia Che poi la regola applicata Sia simpia o meno Quello che ne devo dire È proprio più Quanto tu dai al background Tu dai al gioco O quanto anche il gioco Ti spinge a giocare Così magari Perché Non lo so Io adesso ho appena affrontato Non farò nomi Ma ho appena affrontato Un giocatore Che mi giocava Dei maghi In corn L'eterno giovane L'eterno giovane Azza Perché Le maghi di cinch Proprio Le maghi di cinch In corn Oppure Volendo Nelle regole A me è permesso Di prendere L'ami Sovrenown Di Nargola E giocarla In cinch Sì Che si odia Sì Certo Come mai posso fare Una cosa del genere Come mai posso fare Questo proprio Non lo so Sì Sì È una domanda valida Dal punto di vista Secondo me Stanno un po' Gli ultimi mesi Stanno un po' Svicolando da questa cosa qua Per carità D'altro canto Stanno facendo le armi Sono Renown Che sono background puro Le armi Le fanno inserire In qualcosa Non da Però posso giocare È un po' strano È tutto un po' strano Quello Non lo so Le armi Sovrenown Scusa Aspetta Questi chiamano I regimen Le armi Sovrenown Dove ti fanno Invece Ti prendono Kurnoth Per quanto riguarda I Sylvanet E vabbè Adesso c'è Beltanus Ti fanno giocare Con lo stile di Beltanus Con i modelli di Beltanus Quelle a me piacciono tantissimo Però Quelle se andiamo a vedere Le armi di Renown È background puro Cioè Hanno preso Il background L'hanno Perfetto Spinto in una sottofazione E hanno creato Il background Da poter giocare Come secondo me È un fatto ormai In tutti Ecco Questa è la grande considerazione Che facciamo alla fine Di ogni podcast Dove analisiamo un libro Le regole Rispecchiano Quello che abbiamo appena detto E quasi sempre diciamo sì 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 Ma noi Poi siamo incentivati A giocare Rispecchiando la storia Che abbiamo appena letto Non sempre Non sempre Spesso Spesso Ma non sempre Se non ci dà degli impedimenti Secondo me è quella la grande cosa Se ci dà degli impedimenti Nel gioco O ci crea in situazioni Magari Ci dà delle difficoltà Non lo facciamo Diciamo che ti permettono Di giocare In maniera sensata Dal punto di vista regolistico Rimanendo Nel background Che è una cosa importante Ovviamente Magari non ti dicono Fai la lista Tirata Per vincere un torneo mondiale Rimanendo in background Può capitare Magari capiterà specialmente Con le armi sovrenown Perché alcune Hanno delle regole un po' particolari Però ti permettono Di avere una bella esperienza di gioco Rimanendo Totalmente in background Per esempio Una cosa che io Non sopporto tanto Quando gioco Ma lo faccio anch'io Perché sono il primo Quando io faccio una partita E affronto l'avversario E vedo l'armata dell'avversario E vedo quel pezzone gigantesco Che magari cavalca un mostro E' una cosa incredibile E il generale cosa fa No no Il generale è quel maghetto lì Ciao sono un maghetto Esatto E sono il capo E sono il capo E mi dici il drago E ma lui è il cugino Del comandante in capo E non ha comandato E a me quello piace un po' meno Nel senso anche Ci sono esempi molto estremi Quando giochi i Sylvan Vabbè All'Ariel Poi ci sono tutti i spirit of Durtu Quindi in teoria Se tu giochi uno spirit of Durtu In automatico Dovrebbe essere generale Per quanto è importante Nella storia E a volte La driade Per riservire Perché una delle armate Che ha lo stile di gioco Più odiato da tanti giocatori I Caradron E quello che a livello di background Ha il generale Che è sempre l'ammiraglio E quello è proprio background Perché alla fine L'ammiraglio Che comanda la flotta Penso nove volte su dieci O anche di più Però non penso sia possibile No di più Può essere dieci Su dieci Il generale E l'ammiraglio Non è che ti obbligano Ma ha una serie di abilità Che ti spingono Sempre a mettere lui Come generale Perché ha dei bonus in più E quindi dicono Lui è il tuo generale Ed è difficile Che non sia così E proprio E quello è Background fatto e finito In un'armata Che è odiata Birra e Caradron È perfetto Comunque secondo me Abbiamo approfondito abbastanza La questione del background Ci sarebbero ancora Altre cose da dire A parere mio Però rischiamo di andare Troppo lunghi Sì E diventerebbe troppo Esatto Vediamo Piuttosto facciamo una Una 2.0 Se lo riteniamo necessario Questo argomento vi è piaciuto Tra l'altro Scrivetelo sotto Le cose di like Anzi questo sarebbe Un bell'argomento Da discutere in live Perché sicuramente Tanta gente Ha tanti pareri diversi Sì E moltissime Si può viscerare di più È un argomento enorme Enorme Come i background Ci auguriamo di sviscerare Esatto Abbiamo comunque provato Ad analizzarlo sotto Tantissimi punti di vista In tantissimi ambiti Nerd Da serata nerd Sì Speriamo che vi sia piaciuto Che vi abbiate trovato Cose in comune Cose contro Cioè Che ci sia un po' di dibattito Un po' di discussione su questo Esatto Ci fa piacere Esatto Totalmente E bom Direi che ci vediamo Al battle report Al battle report La prossima volta E alla prossima serata nerd Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi